dai dai che buona bravo Edin dai appoggiati a sinistra vai dai veloce dai troppo prevedibili occhio 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 va che c'è un buco di la nooo occhio occhio libero bravi attenzione però tischi san siro attenzione occhio non puoi farli palleggiare così non puoi farli palleggiare così e il Bayern raddoppia e il Bayern raddoppia 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 incredibile il Bayern raddoppia ancora lui 2 a 0 incredibile 2 a 0 non puoi il Bayern raddoppia non puoi farli non puoi farli